In Caserta il teatro sarà Pucci Artista. Questa mattina la conferenza stampa qui al Teatro Città di Pace di Caserta, naturalmente, noi siamo con Giovanni Allocca. Un programma molto bello, molto accattivante. Ne parliamo un po' Giovanni? Sì, come no. La Rassegna Pucci Artista nasce appunto per la volontà di dare alla popolazione di Caserta una varietà di spettacoli, dal sociale, lo spettacolo comico, lo spettacolo musicale, lo spettacolo di danza, anche il cabaret con il grandissimo Paolo Cagliazzo, per cui dare la possibilità di scegliere alla città una serie di spettacoli divertenti, commoventi, insomma c'è di tutto, possono scegliere veramente cosa venire. E tu sarai in scena a quando? Io il 21 ottobre con l'ultimo pezzo di Cotone di Zucchero, che è uno spettacolo sull'Alzheimer, dedicato a mio padre, che è morto di Alzheimer, con Ida Anastasio, diretto da Pippo Cangiano. Spettacolo molto commomente, ironico, a tratti divertenti, farà sorridere, e farà comunque con l'omere. È la storia di madre e figlio, figlio autistico, madre che comincia ad avere i primi segni di Alzheimer, quindi madre che cura il figlio, ribaltone finale, figlio che si prende cura della madre. È un finale molto molto commovente. Volevamo fare un invito? Sì, come no, allora invitiamo tutta la popolazione di Caserta a partecipare, perché il teatro è cultura, abbiamo proposto dei prezzi molto molto accessibili, la possibilità di avere degli abbonamenti molto accessibili, a 10 spettacoli, che dire, venite, seguiteci, c'è bisogno di voi.